vediamo un esercizio pratico che vi permette di riprogrammare il subconscio. Questo esercizio è composto da tre step. Il primo step nella riprogrammazione è quasi sempre rilassarsi, anche in questo caso. Dovete prima di fare l'esercizio rilassarvi il più possibile, perché è uno stato di dormiveglia, quello che un essere umano tocca in maniera naturale prima di andare a dormire soprattutto, e anche appena si sveglia, sono momenti dove la nostra mente è riprogrammabile, perché la nostra parte conscia è quasi spenta e le porte del subconscio sono spalancate, quindi posso cambiare i contenuti che sono presenti nel subconscio. Quindi primo step uno stato di rilassamento, possibilmente di dormiveglia. Questo è il primo stadio. Il secondo stadio è una posizione fisica, cioè dovete mettere la mano sinistra sulla fronte, lo so che è una cosa particolare, però fidatevi. La mano destra dietro è come se non in basso tipo a toccare la nuca, no. È come se le due mani venissero messe una di fronte all'altra, semplicemente c'è la testa in mezzo. Ok, questa è la posizione. Successivamente la cosa che andrò a fare sarà ripetere delle affermazioni che iniziano con io sono, perché qualsiasi cosa voi mettete dopo l'io sono, lo diventate. Se una persona ripete spesso io sono povera, deve diventarlo, perché l'io sono attiva delle parti della psiche che sono al di fuori del tempo e dello spazio. Quindi se io dico io sono sicuro di me, e lo ripeto con una certa convinzione, prima o poi lo devo diventare. diventare. Se io dico io sono saggio, devo diventare saggio. Se io dico io sono stupido, devo diventare stupido. L'io sono è semplicemente, si dice in alcune tradizioni, è Dio in azione, perché in realtà è la parte proprio più profonda dell'inconscio che agisce. Qual è il punto? Che un essere umano durante la giornata usa dieci io sono positivi e centomila io sono a cavolo, fatti così, negativi. Bisogna fare molta attenzione, perciò è un io sono e poi si mette un qualcosa di potenziante. Vi do un altro consiglio. Se vi risuona potete dire io sono da sempre e poi mettete quello che volete. Io sono è già perfetto così, però potete potenziare l'effetto dicendo io sono da sempre e aggiungete quello che volete. Esempio, io sono da sempre sicuro di me. Io sono da sempre e aggiungete quello che desiderate. Quindi mi rilasso, primo step. Secondo step, metto la mano sinistra sulla fronte, l'altra dietro. E inizio a ripetere degli io sono per diversi minuti. Quanti minuti fare dipende soprattutto da quanto tempo ci mettete a sentire che quell'affermazione è vera. Quanto tempo riuscite ad emozionarvi pensando che quella cosa è davvero così. Quindi se io inizio a dire io sono ricco, devo sentirmi più ricco. Quando mi sento più ricco posso anche stopparmi. Posso metterci dieci minuti di io sono ricco, io sono ricco, io sono ricco, fatto sempre mantenendo la posizione. Oppure ce ne posso mettere due o ci posso mettere vent'anni. Questo dipende poi da voi. Se voi riuscite ad essere ben rilassati, semplicemente questo diventa un ordine per l'inconscio e non dovreste trovare particolari difficoltà. Se invece, se voi dite un'affermazione, sentite proprio un'emozione negativa, allora lì bisogna andare a lavorare diversamente. Quindi dicevamo, primo step mi rilasso, il secondo la posizione delle mani, il terzo la ripetizione dell'affermazione. Quarto step, se riuscite, non è obbligatorio, però quarto step aiuta molto e se riuscite subito dopo ad addormentarvi, perché il sonno incide gli stati d'animo nell'inconscio. Voi potete anche fare questo esercizio senza la postura delle mani, che in realtà è utilissima perché attiva entrambi gli emisferi del cervello, fa sì che l'inconscio recepisce prima quello che state dicendo, attiva delle parti della psiche che di solito sono non attive e quindi è più potente. Però se voi volete farlo anche da sdraiati, vi rilassate, prima di andare a dormire iniziate a ripetere delle affermazioni positive, subito dopo cercate di addormentarvi, perché come vi addormentate è importantissimo. Da come vi addormentate poi l'inconscio lavora con quell'emozione per otto ore e quindi se mi addormento triste sto riprogrammando me stesso in negativo, senza saperlo. Se mi vado ad addormentare invece felice è diverso. Quindi come regola prendete quella di andare a dormire in uno stato d'animo potenziante. Mai andare a dormire tristi, infelici, depressi, impauriti, perché vi riprogrammate velocemente in negativo. Il subconscio è una mente emotiva, la si riprogramma con le emozioni. Il grosso del lavoro da fare sulle emozioni. Poi per esempio noi nelle sessioni di coaching lavoriamo tantissimo anche sulla gestione dei pensieri, perché se io so gestire la mia mente, gestire le emozioni diventa molto più facile, però il grosso del lavoro è sul piano emotivo. Quindi mi raccomando mai addormentarsi con emozioni particolarmente negative.